Benvenuti a questo appuntamento, è un appuntamento organizzato da Ecoistituto che presenterà un suo recente lavoro. Io sono Federico Valerio, sono un chimico ambientale, ho fatto esperienza in questo settore come ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Ricerca sul Cancro, attualmente sono membro del direttivo di Ecoistituto e questa esperienza acquisita in questi anni l'ho qualche modo dedicata alla messa a punto di questo progetto che abbiamo presentato alla città nei mesi scorsi e che adesso, i cui risultati adesso vi farò vedere. Ecco, allora il progetto si chiama Sentinelle dell'Aria, è un progetto che è stato messo a punto da lei, Costitutore Reggio Emilia Genova, come va accennato, e che serve a scoprire insieme con diversi attori della città, in particolare giovani, che aria si respira in questa città. Questa attività è stata svolta appunto come Ecoistituto e la registrazione di questa mia presentazione sarà possibile poi versionarla agli indirizzi dei siti del Ecoistituto e dello Zenzero che ci ha ospitato per questa occasione. Il sommario di questo intervento. Allora, parlerò del patto di sussidiarietà della generazione 2023, che è il patto che ha permesso, ha dato il finanziamento, che ha permesso di realizzare questa operazione. Vi illustrerò quali sono state le sentinelle dell'aria, quindi chi ha partecipato a questo progetto, quali sono stati gli strumenti affidati alle sentinelle, gli strumenti analitici proprio per effettuare le misure. Vi darò qualche piccola nozione, pillole di chimica ambientale, per cercare di capire meglio cosa abbiamo fatto e quali sono stati i risultati e infine che aria hanno respirato le sentinelle a scuole a casa, perché questa è un po' la novità di questo progetto. E altre, anche le prime conclusioni del progetto stesso. Allora, il progetto, le sentinelle dell'aria, è un progetto che è stato riservato per i giovani liguri da 10 a 35 anni. È stato realizzato nell'ambito del patto di sussidiarietà della regione Liguria, che ha messo a disposizione a Genova per 40 associazioni, compresa appunto la nostra Ecoistituto, un fondo, un finanziamento abbastanza adeguato per affrontare appunto un'indagine che anche ha avuto un certo costo. Il progetto, come accennato, è stato proposto da Ecoistituto Reggio Emilia Genova in collaborazione col Centro di Solidarità di Genova, il CEIS Genova, e l'Associazione Nazionale Pubblica Assistenza, Ampas, che hanno collaborato, hanno partecipato attivamente a questo progetto. Hanno anche partecipato e hanno dato una mano molto importante i giovani di Extinction Rebellion, che hanno contribuito alla consegna e al ritiro dei campionatori, oltre ad essere loro stessi sentinelle all'interno di questo progetto, portando a casa appunto i loro campionatori, quindi misurando la qualità dell'aria anche all'interno delle loro abitazioni. Abbiamo coinvolto complessivamente 180 persone, 180 sentinelle, 180 giovani. Questi 180 sono gli allievi di quattro plessi scolastici genovesi, in particolare nelle scuole medie, l'Istituto Comprensivo di Borzoli e quello di San Francesco da Paola, i due istituti nautici, il San Giorgio di Genova e Cristoforo Colombo di Camogli, e il doposcuola del Circolo Zenzero. Hanno partecipato come sentinelle alcuni volontari delle pubbliche assistenze appunto dell'AMPAS e come accennavo prima anche alcuni attivisti dell'Extinction Rebellion, che hanno partecipato anche attivamente come sentinelle vere e proprie. Ecco qui alcune immagini delle sentinelle, i ragazzi dell'Extinction Rebellion, i ragazzi delle autoambulanze, i ragazzi del Circolo Zenzero, i ragazzi qui nell'aula dell'Istituto Cristoforo Colombo di Camogli, e la segretaria dello Zenzero che si è prestata gentilmente, oltre a dare una mano per effettuare questo tipo di registrazioni, i nostri contatti, collegamenti, anche partecipato attivamente come sentinella, ha in mano appunto uno dei nostri campionatori. Allora, come accennato, per l'esecuzione del progetto abbiamo utilizzato diversi strumenti, quindi strumenti analitici veri e propri, che sono stati dati, in comodato l'uso alcuni di questi, alle scuole che l'hanno utilizzata. Di cosa abbiamo consegnato? Abbiamo consegnato quattro sensori per misurare l'energia carbonica, direttamente nelle aule, questo anche ai fini poi del controllo dell'arieggiamento delle aule stesse, che come sapete anche a causa dei problemi del Covid sono state, le aule ovviamente affollate, sono state, devono essere arieggiate. E il sensore per indecarbonica è servito anche per controllare quando era opportuno ariegiare, quando era anche possibile chiudere le finestre perché i valori erano ritratati ai valori normali. Abbiamo anche consegnato quattro centraline per misurare le polveri sottili, PM10 e ultrasottili PM25, quattro centraline di cui poi parleremo dei loro dettagli, ma che sono interessanti perché misurano in continuo appunto questi due parametri. E infine abbiamo consegnato 60 campionatori passivi, poi spiegheremo meglio questo nome, per misurare due principali inquinanti, il biossido d'azoto, l'enio 2, e quella che è la classe di composti che viene denominata complessivamente composti organici volati, il COV, all'interno del quale ci sono anche importanti sostanze, appunto i carburi aromatici, come il benzene, degno di attenzione proprio per la loro tossicità. Altri strumenti sono stati dedicati in qualche modo agli insegnanti. Agli insegnanti abbiamo consegnato un questionario per individuare, un questionario che doveva essere compilato da tutti i loro alunni per individuare i possibili fonti inquinanti dentro e fuori le abitazioni, un questionario da consegnare a tutti per testare la conoscenza sui temi riguardanti la qualità dell'aria prima e dopo questa esperienza, e infine un'articolata e complessa offerta formativa per la programmazione di corsi di educazione ambientale civica all'interno appunto di quello della programmazione che le scuole attualmente devono fare su questi due temi. Questa offerta formativa è stata curata da Rosa Frambartino, che attualmente è la nostra vicepresidente di Equestituto, che ha lavorato su questo e tutto questo materiale potrà essere trovato nel link che vedete su questo link su Dropbox, dove può essere liberamente scaricato tutto questo materiale, che può servire anche ad altri insegnanti ovviamente che fossero interessati a conoscere questo argomento e a poterlo sviluppare con le loro classi. Veniamo allora agli strumenti. Quello che qui vedete è il sensore per l'anide carbonica. Ha un ampio schermo, uno strumento molto semplice che abbiamo, prima di acquistarlo e di consegnarlo, l'abbiamo testato, che misura l'anide carbonica a CO2 appunto in ppm. Il numero che vedete è il numero di ppm 410 che in questo momento, durante questa ripresa, lo strumento sta misurando e quella scala che vedete a sinistra, verde, ci segnala che questa è una concentrazione ovviamente buona, anche perché praticamente corrisponde al valore attuale della concentrazione di l'anide carbonica dell'atmosfera del pianeta Terra. Abbiamo anche altri due parametri importanti, interessanti, la temperatura e l'umidità dell'aria, che in questo caso erano presenti nell'aula, anche questo diciamo indicatori della buona qualità ambientale delle classi che hanno ospitato questo strumento. Qui abbiamo invece l'aspetto più innovativo, sono i campionatori cosiddetti passivi. Qui lo vedete sulla sinistra montato in tutte le sue componenti e a destra smontato nelle sue componenti. Abbiamo una base, quel triangolo azzurro, dove c'è una, vedete, una porta etichette dove viene inserita l'etichetta con codice a barre che identifica in modo univoco il campione, il campionatore. Nel cilindro a fianco dell'etichetta abbiamo la cosiddetta cartuccia che è quella parte attiva che è dedicata per proprio misurare e poi infine il cilindro azzurro che è una membrana di fusione che permette di fare appunto un campionamento seguendo un principio che qui adesso vedremo. Qui vediamo una sezione come funziona questo tipo di campionatore appunto passivo e perché non ha nessuna parte di un movimento. Quello che permette il flusso di aria dall'esterno del cilindro verso appunto il cilindro interno che è la stura assorbente è dovuto al fatto che all'interno del cilindro che qui viene del... c'è una sostanza assorbente specifica per l'analita il composto che si vuole analizzare che una volta che è penetrato per diffusione all'interno del cilindro blu viene assorbito. Questo crea una differenza di concentrazione tra l'interno del cilindro della diffusione e l'esterno. Questa differenza di concentrazione permette un flusso costante e noto che permette di stimare in qualche modo il volume di aria campionata durante il campionamento. Campionamento che è durato continuativamente in questo tipo di esperienza che abbiamo condotto per sette giorni o per quattordici giorni. Abbiamo scelto sette giorni quella fine come dato di fine dopo aver fatto alcune prove preliminari perché questo periodo si è dimostrato sufficiente per poter far sì che all'interno del cilindro ci fosse la quantità dell'analita in questo caso biossi d'azoto piuttosto che idrocarburi aromatici appunto composti organici volatili in quantità adeguata per la tecnica analitica per poter essere misurato utilizzando la tecnica analitica scelta dal laboratorio a cui abbiamo consegnato i cilindri dopo il loro campionamento. In questa fase in questa immagine vedete appunto la fase di preparazione del campione da portare a casa perché c'era questo problema da in qualche modo da affrontare e risolvere. Abbiamo anche perché il campionatore passivo che poi lo vedremo può essere molto flessibile perché può essere indossato può essere appeso fuori di casa può essere messo dentro un'automobile messo su una bicicletta insomma diciamo proprio per le sue caratteristiche ha un'estrema flessibilità d'uso però è anche delicato e quindi per evitare di rotture oppure dei falsi diciamo operazioni durante la fase di montaggio che è molto semplice ma abbiamo pensato che fosse preferibile che noi il montaggio lo effettuavamo prima della lezione che i ragazzi facevano quindi il campionatore è montato in tutte le sue parti e quindi reso già pronto per poter fare le misure è stato inserito in questo sacchetto di politilene sigillato e qui vedete mi vedete nella fase di preparazione in cui sto preparando tutti i campionatori da consegnare alle sentinelle e all'interno della busta c'è anche il questionario che le sentinelle compileranno una volta a casa che ci è servito e ci servirà per poter capire quali sono le caratteristiche di quell'abitazione che per poter trovare e poi vedremo che in effetti è stato utile farlo qual è una giustificazione dei valori eventuali valori anomali che lo stesso campionatore ha l'essere rilevato e qui vediamo appunto i due campionatori quindi il sensore per la lida carbonica e i campionatori passivi in funzione queste due immagini sono state riprese in due aule quindi che sono state adattate per diventare stazioni di monitoraggio vera e propria all'interno appunto dell'aula quindi abbiamo in funzione in entrambi i casi qui sono appunto due scuole diverse il sensore per la lida carbonica e come vedete o appoggiato a un tavolino oppure appeso a un opportuno sostegno i campionatori passivi nell'immagine a sinistra avete anche un termometro un termoigrometro che è un'altra quindi la temperatura durante il campionamento è un'altra di quelle misure importanti per poter poi calibrare in modo adeguato i risultati ottenuti questo è a scuola e qui vediamo un'immagine fuori dalla scuola quindi all'interno di un box che serve a proteggere il campionatore in caso di pioggia perché ovviamente in caso di pioggia quella membrana detta alla diffusione si otturerebbe quindi andrebbe a falsare il risultato quindi questo il campionatore messo all'interno di questi box che qui vediamo appesi all'esterno dei terrazzi dei due istituti nautici a sinistra quello di Genova e a destra quello di Camogli altrettanto si è fatto nelle altre scuole dove appunto in generale sul terrazzo è stato posizionato questo tipo di box per effettuare misure esterne all'interno delle abitazioni invece abbiamo questo esempio qui ovviamente abbiamo addestrato le sentinelle per dire cosa devono fare abbiamo scelto la cucina come luogo a potenziale rischio per quanto riguarda gli ossi d'azoto qui lo vedete appunto il campionatore appeso a un lampadario come peraltro in modo giusto in modo di una zona regiata e qui vediamo un potenziale fonte di inquinamento perché come poi adesso vedremo meglio i fornelli a gas possono essere anzi sono senz'altro una fonte importante di osso d'azoto e anche di altri inquinanti altrettanto importante che la cappa aspirante sia ovviamente accesa in funzione quando si appunto si fa il caffè oppure si riscalda qualcosa in quest'altra immagine vediamo appunto la scelta che abbiamo fatto per monitorare come abbiamo fatto in particolare però per i composti organici volatili per fare dei monitoraggi all'interno delle autoambulanze dell'AMPAS quindi l'abbiamo letteralmente come vedete appesi allo specchietto retrovisore e qui sono state anche qui sette giorni completi sia durante il servizio sia durante la sosta ovviamente in questo caso il dato ottenuto era una media di questi due periodi quindi non necessariamente era l'esposizione personale ma anche questo è stato un utile utilizzo di questo strumento l'altro strumento di cui abbiamo parlato è quello che vedete in mano al nostro collaboratore si tratta di una in questa scatoletta è contenuto adesso poi vedremo i dettagli un sensore per misurare le polveri sottili e ultrasottili quel tubicino che vedete uscire è il punto di campionamento dell'aria questo sistema però ha bisogno di una presa di corrente elettrica per funzionare e anche bisogno delle vicinanze di un impianto di wifi che riceve e trasmette a sua volta nella rete le informazioni ottenute la foto successiva ci dà qui vedete la scatoletta smontata e di fatto i due componenti di cui abbiamo qui il sensore che è un diffrattore laser per misurare la concentrazione di polveri sottili e nell'altra parte ovviamente collegata al sensore un microprocessore arduino che elabora i segnali in arrivo e li trasmette alla rete alla rete wifi per poter poi essere ricevuti attraverso anche un normale smartphone accedendo al sito www.caria.tira.it che è stato messo a punto dagli amici di Firenze che hanno messo a punto anche questo sistema qui vediamo qualche dettaglio sul sensore qui da questa parte entro ora all'interno del sensore c'è un piccolo ventilatore che funziona in continuo aspira l'aria esterna che passa attraverso quel tubicino in plastica avete visto insieme alle polveri le polveri vengono irradiate con un urlaggio laser che produce luce luce difratta di intensità proporzionale al tipo di particelle la quantità che un sensore posizionato in questa posizione registra e trasforma attraverso un opportuno software trasforma in una concentrazione appunto microgrammi per metro cubo di cui l'aria esce qui qui vediamo per esempio come appunto accedendo al software di questo programma se è possibile qui abbiamo abbiamo cercato sulla mappa dove sono poi le vedremo meglio presenti tutte le stazioni della rete di monitoraggio popolare così l'abbiamo chiamata la stazione di zenzero Terralba cliccando su quel puntino verde che ci dice in questo momento la qualità dell'aria come si vede all'interno di questa scala cromatica è buona rispetto ai PM5 siamo da 0 e 10 microgrammi per metro cubo e infatti i valori che si registrano lo zenzero in questo momento qui è possibile vedere la data sono 7 microgrammi per metro cubo di PM2.5 e 36 microgrammi per metro cubo di polveri PM10 in quest'altra invece diagramma si possono vedere come varia perché ogni 5 minuti viene fatta una misura come varia la concentrazione di polveri sottili nelle ultime 24 ore di questa giornata e tra l'altro su questo diagramma è possibile anche leggere la concentrazione media che è 4 microgrammi per metro cubo la concentrazione al momento che è 7 quella che vedete qui il valore minimo e massimo durante le 24 ore quindi è lo strumento come dire molto preciso molto veloce molto sensibile di precisione adeguata e di una buona accuratezza dove abbiamo messo queste 4 centraline e qui c'è la loro posizione una di queste è stata messa all'esterno della scuola quindi è stata ospitata qui lo vediamo sulla tettoia del circolo Arci Cacciatori di Granarolo qui siamo invece nel terrazzo dello Zenzero l'abbiamo messo sotto questo balcone e qui vedete la posizione della mini centralina e nel caso del distrutto comprensivo a Borzoli del San Giorgio del Nautico di San Giorgio il sensore è stato posizionato all'interno della sala professori e della sala del dove esistono i computer del distrutto Borzoli quindi in questo caso queste due centraline stanno misurando le misure interne di polverosità le altre le misure esterne tutto questo fa parte di una rete molto articolata che oggi è arrivata da 16 stazioni quindi 16 stazioni messe in parte dai costituti in parte acquistata per esempio anche dalla stessa di alcune associazioni ma anche dalla stessa scuola che l'ha posizionata a Camogli e le 16 stazioni per controllo delle polveri sottili vanno da Pra appunto a Camogli passando per Bogliasco dove ho ospitato da casa mia e lo Zenzero che si trova in questa posizione come vedete il grosso dei campionatori sono posizionati appunto nella zona centrale della città perché uno degli obiettivi di questa rete è anche di controllare un parametro di cui si sa ancora molto poco e qual è l'impatto l'eventuale impatto dell'attività navale sia appunto ovviamente a Pra ma ancora di più nel porto diciamo turistico di Genova sull'abitato che abita ecco tutte queste centraline appunto come è importante dirlo sono ospitate su balcone o terrazze di famiglie che abitano in quella zona quindi zone dove non potranno mai arrivare le stazioni di Arpal che ovviamente sono quelle stazioni come dire ufficiali quelle che misurano ufficialmente l'inquinamento a questo link potete accedere appunto a immagini come queste e potete eventualmente andare a vedere quali sono i risultati i valori che registrano le centraline di vostro interesse ora veniamo a qualche piccola pillole diciamo abbiamo chiamato qualche piccolo elemento di chimica ambientale una disciplina complessa molto articolata anche abbastanza nuova come appunto una branca della chimica specializzata anche abbastanza nuova nel nostro istituto la nostra attività era eravamo uno dei pochi in Italia a occuparci di queste cose devo dire la verità abbiamo anche svolto attività molto importanti per il raggiungimento della qualità dell'area della nostra città vediamo che informazioni è importante avere che peraltro hanno avuto anche le sentinelle che hanno svolto questa attività per intanto capire che ogni volta che respiriamo immettiamo nei nostri polmoni circa mezzo litro d'aria quindi è un movimento come dire spontaneo neanche ci badiamo non ci rendiamo neanche conto nell'arco di una giornata sono 8000 rotti litri di aria una bella quantità veramente una grande quantità ecco ma che cosa c'è nell'aria che immettiamo nei nostri polmoni ci interessa direi che ci interessa perché ovviamente noi stiamo immettendo l'aria che è presente nell'atmosfera del nostro pianeta che proprio grazie all'ossigeno che è presente circa il 21% permette la vita del pianeta insomma questa è la verità l'altro gas molto importante che lo vede circa il 78% è l'azoto che è così in grande quantità che però di per sé non è importante perché è un gas inerte inerte se come dire a temperatura ambiente perché le cose poi accenneremo dopo cambiano quando l'aria quindi ossigeno e azoto vengono messe insieme ad alta temperatura e ad alta pressione c'è però poi una piccola frazione circa l'1% di tanti altri gas che ci interessa quali sono questi altri componenti di questo appunto 0,93% fanno parte alcuni gas che vengono in piccola quantità gas inerti che vengono anche denominati gas rari proprio per la loro piccola concentrazione i nomi sono argono neo ne io e c'è poi un gas che anche questo non in grande concentrazione 0,0407% diciamo le misure fatte attualmente si chiama l'aridia carbonica ma come sapete il CO2 è un gas molto importante perché è chimicamente inerte però è un gas che ha quella caratteristica di avere di poter in qualche modo influenzare con l'effetto cosiddetto effetto serra la temperatura e il clima del pianeta queste unità di misura sono appunto in percento o in parti per milione o parti per milione gli altri gas che non a caso ho riportato in rosso che ci interessano e sono quegli oggetti di questo studio sono il biossido d'azoto le NO2 quindi dove azoto e ossigeno ne avevamo accennato prima si combinano tra di loro un'altra classe di composti che vengono denominati composti organici volati la base di carbonio carbonio e idrogeno sostanzialmente ma anche con possibilità di avere anche molecole di ossigeno che sono il benzene in particolare si vengono chiamati aromatici la formula C6H6 quindi 6 atomi di carbonio e 6 di idrogeno in questo caso toluene e xilene gli altri composti sono dei solidi polveri che a seconda in base alle loro dimensioni vengono dominati PM10 e PM25 questo vuol dire che PM10 la loro dimensione sono di 10 micron oppure di 2,5 micron quindi polveri via via più piccole e questo più problematiche proprio per la loro dimensione più piccole sono e più sono problematiche e pericolose quindi tutti questi composti che sono presenti nell'area che respiriamo in particolare quelli che abbiamo segnato in rosso che abbiamo adesso elencato sono composti che sono dannosi per la nostra salute diversi studi effettuati ormai da diversi decenni da istituti compresi anche il nostro peraltro il nostro istituto dell'ostituto tumori c'era un dipartimento di epidemiologia che studiava esattamente ha studiato e continua a studiare in parte queste problematiche andando a vedere come dire studi di tipo statistico prendendo una grande popolazione di cui è importante che sia nota l'esposizione quindi come dire qual è la concezione dell'aria presente nei luoghi dove questa gente abita e per andare a vedere poi sia a parità di altre condizioni appunto le TAP per dire o altri parametri diciamo cosiddetti confondenti che possono alterare i risultati quindi a parità di questi elementi a capire che effetti ha sulla salute quello che si è visto che appunto queste sostanze di cui abbiamo parlato hanno sicuramente un effetto dannoso alla salute ovviamente che è maggiore maggiore la concentrazione e anche come dire è anche in base allo stato di salute della popolazione esposta ma le concentrazioni a cui queste sostanze sono pericolose sono molto basse tanto è vero che si misurano in parti per milione o addirittura in parti per miliardo e se sono in peso in appunto i milionesimi di grammo per metro cubo microgrammi per metro cubo milionesimi di grammo quindi valori molto piccoli che però le tecniche attuali sono in grado di misurare e che ci permettono di avere un'idea di poter misurare queste sostanze per poter fare che cosa per poter verificare se sono la concentrazione di queste sostanze presente nell'aria è rispettosa di quelli che sono i limiti dell'aria i limiti della qualità dell'aria questi sono i valori attualmente in vigore in Italia e l'Italia li ha in qualche modo questi valori recepiti da normative europee che hanno fissato questi valori alla luce appunto di questi risultati studi pedagogici di cui vi parlavo prima e che tutti i paesi dell'Unione Europea controllano tra l'altro con le stesse tecniche di campionamento analitici e devono rispettare focalizzo la vostra attenzione sull'enio 2 era il biossio d'azoto dove il valore che deve essere rispettato poi gli altri li potrete vedere con voi con Calva è di 40 microgrammi per metro cubo come media annuale quindi singole misure giornaliere mediate su 365 giorni quindi su un anno non devono superare 40 microgrammi per metro cubo il benzene come vedete l'ultimo nella colonna ha un valore di riferimento di 5 microgrammi quindi è il più basso di tutti tutte queste misure sono in microgrammi per metro cubo proprio perché il benzene è una sostanza di cui si è accertato l'effetto cancerogeno sull'uomo in particolare con induzione di tumori all'apparato al sangue quindi leucemie sostanzialmente in questo caso sia per l'iossio d'azoto che il benzene questo valore deve essere la media di un intero anno di misure però ci si è già accorti che questi valori anche se poi come accenneremo non tutti sono in grado di rispettarli sono insufficienti a tutelare in modo adeguato la salute della grande popolazione che effettivamente viene esposta perché tutte le popolazioni urbane sostanzialmente ovviamente tutti quelli che lavorano in ambienti di lavoro dove l'inquinamento ovviamente è decisamente più elevato di quanto non lo sia lungo le strade anche più trafficate dicevo milioni e milioni di persone esposte a queste sostanze vanno incontro a fenomeni anche gravi sulla salute non solo dell'apparato respiratore perché parliamo anche per tutti questi composti di cui stiamo parlando un aumento della mortalità per ictus per esempio oppure per problemi di respiratori e anche per altre per altre cause diciamo comunque cause di morte infarto e ictus sono le cause principali che sono in cui che aumenta come frequenza se si è esposti a livelli anche di questo valore allora dicevo gli studi che sono stati effettuati in particolare dall'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS hanno evidenziato che questi valori non sono sufficienti per cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già proposto valori più concentrazioni più restrittive questo è un aggiornamento che l'OMS ha fatto nel 2021 non sono ancora normative ricepite non sono valori ricepite delle normative europee ovviamente anche nazionali sicuramente bisognerà farlo perché ripeto le evidenze sperimentali nel fatto che i precedenti valori non sono sufficienti a tutelare la salute sono estremamente evidenti non c'è non c'è neanche dibattito ecco per quanto riguarda gli ossi d'azoto che fa parte un po' dello studio adesso poi cominceremo a vedere viene fissato un valore giornaliero e questa è la novità 25 microgrammi per metro cubo come valore giornaliero lo terremo con e quello invece quell'annuale da 40 passa a 10 capite bene che è un valore decisamente più basso il benzene resta i 5 microgrammi che attualmente è in vigore la stessa cosa si abbassano anche le polvere sottili ultra sottili allora come facciamo a sapere se a Genova rispettiamo questi valori ebbene per farlo è possibile accedere vederlo anche personalmente accedendo appunto al link che vedete scritto in basso e che dove potete andare a vedere cosa stanno misurando in questo momento tutte le 13 stazioni ARPAL ARPAL è l'agenzia regionale per la protezione ambientale ogni regione ne ha una come dicevo prima ognuna di queste ogni ARPA adotta metodi per il campionamento e per l'analisi simile tutte le ARPAL nazionali ma anche tutte le agenzie a livello europeo adottano tutti lo stesso criterio a loro volta come dire tecniche analitiche sono state certificate in appositi laboratori in particolare dal centro di Ispra che è un centro europeo dove si studiano appunto tematiche di questo tipo qui vedete ognuna di queste freccette indica delle stazioni fisse non so bene andate a vedere quella che è più vicino a casa vostra e vedete se avete un'idea di dove siano poi abbiamo questi due vedete con dei forgoncini perché sono stazioni mobili che l'ARPAL adotta per andare a verificare situazioni particolari dove non c'è una stazione fissa perché trovare una stazione fissa non è facile e ovviamente una volta che si fa non è che può essere mossa perché è molto costosa sia la gestione che il montaggio però noi abbiamo già un quadro abbastanza ampio quindi è monitorata sostanzialmente gran parte della città compreso le nostre valli con quali risultati va bene qui abbiamo una tabella complessa quella vedete con calma comunque potete anche controllare poi a quel link che ci fa vedere come dire è un il dato che si riferisce a Genova dove sono riportati tutte le centraline e tutti i parametri misurati quello che è cerchiato in rosso ci riporta la media si chiama media mobile annuale come sarebbe la media di 365 giorni di biosseri d'azotto registrati in via Bozzi e in corso Europa le strade come sapete più trafficate che riporta un valore di 46 e di 54 quindi valori che ho scritto in rosso perché hanno superano quel valore di riferimento attuale che è 40 microgrammi cosa comporta questo sforamento la cosa importante da notare è che è uno sforamento che a Genova a partire dall'inizio delle prime misure siamo nel 93 sono sempre state come dire il livello di riferimento che è quella linea rossa che vedete quindi dal 93 in questo caso fino al 2015 ma la stessa cosa come stiamo vedendo vale fino al 2022 è un valore che viene tranquillamente questo 40 microgrammi viene costantemente superato qui siamo in corso Europa e la cosa interessante però è il caso di notarlo è che mentre nel 92 navigavamo per valori intorno a 90 microgrammi per metro cubo man mano che sono passati gli anni pur con delle variazioni all'interno dei singoli anni c'è una tendenza progressiva alla diminuzione che fa sì che nel 2015 siamo intorno a una media di 13 perdon di intorno a 50 e qualcosa microgrammi quindi con 13 microgrammi in più rispetto al limite di legge questa diminuzione non è casuale è sicura dato che abbiamo ora queste centraline sono state poste volutamente nelle vicinanze delle grandi strade trafficate perché è evidente che abbiamo un problema di inquinamento da traffico anche se poi non è l'unico perché siccome ho accennato prima c'è sicuramente una fonte inquinante attualmente poco controllata poi lo vedremo meglio insomma eventualmente nel proseguimento anche di questi nostri studi che anche come istituto ce ne stiamo occupando dicevo è il problema che il problema di traffico è sicuramente un problema importante che sia il traffico lo dimostra proprio questo andamento perché questo andamento è decrescente e funziona del fatto che a partire dal 92 dove sono state introdotte le marmitte catalittiche che durante il tempo sono state rese progressivamente più efficienti la quantità di macchine circolanti a Genova in questo range di anni in tutti questi anni sostanzialmente non si è modificato forse la modifica più sostanziale è quella che le due ruote sono passate quindi i motorini insomma da motori a due tempi decisamente inquinanti a motori a quattro tempi alcuni addirittura dotati di marmitte sto parlando delle delle attuali moto quindi decisamente ben inquinanti comunque queste modificazioni introdotte nel parco veicolare genovese a comunità anche italiano ha comportato un drastico diminuzione non solo tra l'altro gli ossidazoto ma anche l'ossidio carbonio le stesse polveri e così via allora ma questo 13 microgrammi che ci vede fuori cosa ci costa? bene ci costa intanto una procedura per quanto riguarda l'Italia per inflazione e per violazione delle norme comunitarie è una sanzione che il nostro paese deve pagare come tutti gli altri paesi che non rispettano le norme comunitarie la sanzione minima pare che sia intorno ai 10 milioni di euro quella massima andiamo su un miliardo quindi vedremo un po' questa storia cercheremo di capire ma la cosa più importante è che anche alla luce di quegli studi epidemiologici di cui anche su Genova è stato condotto questo studio si è verificato che ogni anno su tutta la città abbiamo circa 100 morti precoci e altrettanti ricoveri ospedalieri a causa di questo inquinamento e quindi evitabili se si rispottassero i limiti di qualità che la legge ci impone a passare una nota che conferma che questo è il problema è che durante mentre eravamo chiusi in casa a causa del covid e quindi la circolazione di autoveicoli a Genova era drasticamente ridotta in quei mesi per la prima volta appunto dal 92 non si sono mai superati i limiti di legge che avete visto prima a conferma che perlomeno per quanto riguarda le centraline che monitorano a pochi metri di distanza dei grandi flussi di traffico e il traffico quindi la densità del traffico il modo in cui i rallentamenti che si hanno proprio a causa della loro concentrazione e ovviamente le caratteristiche del parco veicolare che caratterizza questo problema e quindi su quelli che bisogna eventualmente intervenire e veniamo adesso a che cosa hanno scoperto le sentinelle accenno subito che le sentinelle hanno fatto uno studio innovativo perché come accennato prima le sentinelle grazie a questi campionatori passivi diciamo per la prima volta per quanto sappia ma penso di saperlo alcune cose le avevamo fatte noi come come istituto Tubori anni fa però diciamo andare a vedere cosa c'è nelle aule delle scuole e nelle case dei cittadini qual è la qualità dell'aria e uno studio non è ancora fatto noi abbiamo cominciato a vedere qual è la situazione e quindi se meriterebbe l'attenzione vediamo adesso i primi risultati allora la prima scuola la prima scuola è l'istituto è l'istituto Borgioli ora vedete il periodo in cui le misure sono state fatte a novembre quindi una settimana di misure a Borgioli abbiamo all'interno delle due aule quindi la terza C la terza D quindi siamo nelle scuole medie all'ultimo anno 9 e 10 microgrammi per metro cubo quindi valori decisamente bassi ampiamente nei limiti di legge ripeto è un periodo abbastanza lungo poi lo vedremo confermato la cosa passiamo delle cucine di 6 sentinelle quindi 6 ragazzi di queste due di queste due scuole hanno portato a casa come avete visto prima la loro centralina l'hanno posizionata nelle loro cucine il valore medio è di 23 andando con un minimo di 18 e un massimo di 34 la cosa che è importante è che penso per scelta dei loro professori 4 di queste abitazioni su 6 avevano in casa persone che fumavano e questo si è dimostrato essere un fattore importante perché senz'altro il valore massimo di 34 microgrammi per metro cubo che ho segnato colorato in arancio perché appunto supera il valore di riferimento il nuovo rivalore di riferimento come dire consigliato dall'AMS è di fatto superiore a quello che l'ARPAL ha misurato in via Pastorino che è la centrale più vicina nella zona di Bozzoli quindi è un valore ripeto degno di attenzione tra l'altro il valore di 34 oltre ad esserci un fumatore in base al questionario c'è anche un uso che non sappiamo quanto diffuso di candele anche la candela appunto è una combustione sembra una cosa piccola ovviamente la quantità di inquinamento è proporzionale all'intensità del fenomeno della combustione ma anche le candele come dire con strumenti di misura sensibili come quelle che abbiamo adottato si vede anche questo fatto quindi anche l'uso di candele anche di incensi e altre cose simili a queste possono comportare un peggioramento della qualità dell'aria andiamo a vedere la successiva siamo all'istituto San Francesco da Paola quindi sia a Borzoli che l'istituto San Francesco da Paola sono alti in collina quindi in zone sostanzialmente lontane dal traffico e anche in questo caso abbiamo fatto una misura interna 7 microgrammi per metro cubo nella prima B all'esterno sul tetto dell'istituto San Francesco i valori sono 5 quindi decisamente bassi tenendo presente che appunto contemporaneamente la stazione mobile dell'ARPAL che è posizionata in largo San Francesco da Paola misura valori bassi come media 17 microgrammi ma decisamente più alti di questi due valori che abbiamo misurato nella scuola andiamo nelle cucine di 6 sentinelli e anche qui abbiamo delle sorprese la concentrazione media è 23 quindi superiore a quello che abbiamo misurato all'esterno in largo San Francesco da Paola che di fatto è nelle vicinanze se vogliamo della scuola un valore minimo di 8 e un massimo di 32 non abbiamo avuto ancora la possibilità di analizzare i questionari per capire se anche in questo caso quel 32 che vedete è molto simile a quello che abbiamo trovato a Bozzoli sia dovuta alla presenza di fumatori viene confermata comunque una maggiore concentrazione un'area di qualità mediamente peggiore in casa piuttosto che all'esterno andiamo all'istituto nautico San Giorgio qui l'istituto nautico San Giorgio si trova appunto nella zona del porto non siamo molto distanti dalle vie di grande traffico in particolare via Bozzi non a caso le concentrazioni esterne e interne che sono della scuola sono come dire dentro i limiti di legge ma più alti di quelle che abbiamo trovati a Borzoli o a San Francesco da Paola anche qui nelle cucine delle sentinelle delle sette sentinelle abbiamo avuto una concezione media di 20 e una minima di 12 e un massimo di 29 in via Bozzi che è la strada altrimenti trafficata tra l'altro c'è via Bozzi ma poi nelle vicinanze abbiamo anche la presenza della sopraelevata oltre il traffico pesante che è all'interno del porto quindi una grande presenza di traffico abbiamo un valore di 46 e quindi abbiamo quella settimana già il superamento comunque dei valori dei limiti di legge di 40 microgrammi anche se quella è una misura che vi ho detto prima deve essere misurata su un anno di misure Al Colombo siamo a Camogli e non è sorprendente il fatto che abbiamo anche i valori molto bassi all'esterno 4 microgrammi all'interno 5 la concentrazione media sulle cucine è più alta ma si mantiene su valori molto bassi e qui abbiamo una sorpresa perché il valore massimo che è ancora intorno ai 30 quindi superiore ai valori di riferimento più restrittivi c'è un valore che in questo caso sappiamo un possibile motivo l'uso di un camminetto a legna probabilmente giustificato dall'aumento esagerato dei costi del gas ma un altro un combustibile che come dire ovviamente che si usa se non c'è alternativa che si deve usare con sistemi di riscaldamento e ancora meglio con una cappa aspirante con un sistema di scarico fumi molto efficace ma che comporta problemi di inquinamento biossido azoto benzene polveri sottili in questo caso l'ARPAL a rapallo misura 28 microgrammi quindi valori bassi all'interno di quello che potrebbe essere il limite giornaliero delle nuove prospettive ma decisamente più basso di quello che si misura a Genome gli attivisti di XR hanno portato a casa sono ragazzi avete visto grandi che hanno portato anche loro a casa questo campionatore appunto vabbè sono quattro una misura è stata fatta per 14 giorni consecutivi i valori appunto vedere 36 37 28 valori decisamente elevati mentre in via Bozzi che è una strada abbastanza vicina dove queste sentinelle abitano a misurata appunto come avevano il sito 46 di qui abbiamo bisogno stiamo aspettando che vengano di ricevere appunto i loro questionari anche qui per capire meglio infine vediamo qui sono i volontari dell'ANPAS quindi in questo caso la sigla è il loro nome insomma abbiamo cercato anche di mantenere qualche criterio per le privacy la cosa interessante è che all'interno degli uffici di ANPAS il valore è i 15 mentre abbiamo un 21 in questo caso ma anche abbiamo un 42 in cui qui abbiamo il 37 con cui sicuramente è stato segnalato un fumatore in questo caso non ci sono fumatori ma siamo al secondo piano di una strada trafficata non escluso bisogna indicarla meglio che questa possa essere la causa ovviamente ecco diciamo così chi abita lungo una strada trafficata a piano terra prima e secondo piano si possono sentire gli effetti dal terzo piano in su gli effetti l'avevamo vista anche un ospedale che aveva effettuato come costituto sono decisamente più bassi siamo lo zenzero quindi lo zenzero che abbiamo scelto come zona di riferimento di area urbana insomma come dire a basso potenziale di fondo urbano questo è il termine tecnico in cui abbiamo scelto lo zenzero lo zenzero tranne appunto via Torti che però non come dire come qui possiamo vedere non impatta molto proprio perché siamo diciamo così separati dall'edificio da questo tipo di fonte inquinante abbiamo trovato all'interno del giardino un valore di 10 di microgrammi per metro cubo nella sala d'ingresso del circolo zenzero 11 delle sentinelle ne abbiamo riportate due una a 30 e quindi anche qui bisognerebbe capire meglio cosa è dovuta a questo fatto l'altra 16 tra l'altro è la segretaria del circolo in corso via Gastaldi durante questo periodo che è a poche centinaia di metri dallo circolo 41 quindi con un superamento dei limiti di qualità dell'aria sullo zenzero abbiamo anche misurato come potete vedere i composti organici volatili in particolare il benzene e come potete vedere sia nonostante la relativa presenza vicinanza a via Torti il giardino di via Torti siamo circa 20 metri di distanza forse 30 metri di distanza dal centro stradale di via Torti nella sala d'ingresso del circolo e sul terrazzo del circolo stesso i valori di benzene sono decisamente bassi e peraltro decisamente più bassi di quanto contemporaneamente sia stato misurato in via Gastaldi dalla stazione Arpal i COV nel loro complesso i COV diciamo una miscela anche di qualche centinaia di composti non abbiamo valore di riferimento ma ci danno un'idea di quant'è la qualità dell'aria nel senso che come dire tanti COV segnalano che c'è un'area viziata tra virgolette perché carica appunto di tutte le sostanze volatili che si liberano in un appartamento compreso anche quello che viene definito in termini tecnici body odor insomma come dire gli odori personali che poi ognuno di noi emette insomma per scendere dal suo livello di pulizia vediamo alle conclusioni allora diciamo prima conclusione perché come ho accennato prima i risultati sono ancora oggetti di studio allora abbiamo intanto possiamo dire che la qualità dell'area delle scuole che abbiamo monitorato è decisamente buona sia dentro che fuori i motivi sono quelli le scuole sono messe in posizione lontane da fonti inquinanti importanti almeno nel periodo in cui è stato analizzato questo abbiamo analizzato questo campione le classi erano tutte molto areggiate l'inquinamento esterno abbiamo visto era basso quindi altrettanto basso e quell'interno nonostante la presenza degli studenti abbiamo avuto qualche problema perché l'abbiamo visto di livelli di carbonica elevata un aspetto da tenere è stato presente ma ovviamente la tossicità dell'anide carbonica è decisamente bassa nelle aule appunto sono rispettati anche i valori dei nuovi limiti giornalieri dell'OMS di 25 microgrammi per metro cubo nella sala professore dovevamo le centraline per i polveri sottili abbiamo sempre misurato valori molto bassi qui per esempio riporto la media degli ultimi 15 giorni è di 4 microgrammi per metro cubo decisamente più bassi dei limiti previsti per questo tipo di inquinanti in casa appunto come abbiamo già visto le sentinelle spesso sono esposte a concentrazione di biossino d'azoto maggiore di quelle trovate a scuola e in alcuni casi rispetto anche superiore ai nuovi limiti dell'OMS a cosa attribuibile l'abbiamo visto la presenza di fumatori tra l'altro nel caso qui non l'abbiamo riportato ma abbiamo anche trovato valori veramente in caso elevatissimi di benzene nel caso di una bambina di una ragazza delle scuole medie che ha trovato a casa sua più di 5 microgrammi per metro cubo valori che non troviamo più come media annuale per lo meno in tutte le strade genovesi il problema sicuramente di questi 5 microgrammi è che in casa qualcuno fuma e altrettanto probabilmente fuma senza arieggiare magari fuma in casa e non fuori come è probabile avvenga in alcuni di quei casi in cui la presenza di fumatori è stata denunciata ma i valori sono molto bassi come dire è un problema che bisogna segnalare e chi fuma poi immagino qualcuno dei genitori se non addirittura tutti e due bisogna che si devono un po' andare regolato altre altre conclusioni sono appunto questo che la presenza di fumatori e di riscaldamento a legna sono un importante fonte di inquinamento questo fatto bisogna saperlo e intervenire in modo adeguato per poter minimizzare questa problematica merita appunto attenzione un buon funzionamento delle capi aspiranti perché non sappiamo se sono state messe in funzione ci sono i ragazzi ci hanno segnalato che le hanno utilizzate però non sappiamo a quale velocità non sappiamo se come diranno sono efficaci se sono a scarico esterno oppure addirittura con filtri e in questo caso non serve assolutamente a nulla anzi aggrava la situazione molti ci hanno segnalato che ventilano quindi la mattina tutte le case direi segnalano che si apre per un tempo più o meno adeguato è importante che questa pratica venga effettuata e venga effettuata nelle ore giuste orientativamente specie se l'abitazione è presente nelle zone diciamo vicine a flussi di grande traffico nelle prime ore del mattino quando appunto il traffico eicolare è ancora basso e quindi si può ipotizzare che la concentrazione degli inquinanti che questo traffico produce sia altrettanto bassa come avete visto per quanto riguarda lo zenzero all'interno dell'esterno è accettabile anche nel giardino gli amici dello zenzero ci avevano anche chiesto di fare queste misure perché volevano anche capire se era opportuno segnalare la possibilità dei cittadini intorno di poter utilizzare questo spazio verde che forse è l'unico disponibile nel quartiere e la mia risposta direi a questo punto è sì l'altra cosa è che sul terrazzo dello zenzero se c'è qualcuno che fuma la centralina se ne accorge perché così è avvenuto insomma durante alcuni eventi che lo zenzero normalmente fa ci siamo trovati ogni tanto con dei picchi intorno alle ore serali e avendo verificato dal giorno che si è festeggiata le donne appunto a marzo o altri feste che sono state fatte lo zenzero dove appunto il fumatore va a fumare fuori se fuma sotto la centralina la centralina quel fumo lo vede lo registra e va bene e ci dice che c'è ripeto se è fuori ovviamente è poco male ma è la conferma che le nostre centralinie funzionano infine diciamo stiamo arrivando a quelle conclusioni della valutazione generale sul progetto il progetto come accennato per la prima volta a Genova con metodi certificati perché è importante ribadirlo il metodo di campionamento passivo è stato ampiamente certificato è vero che anche le stesse ARPAL lo utilizzano in casi specifici quando hanno bisogno di fare controlli in zone dove appunto non ci sono le centraline ma che ci sono problemi di inquinamento e poi questo può essere sia diciamo dentro la fabbrica ma anche nelle sue vicinanze utilizzano questo metodo ripeto che è molto accurato ha evidenziato all'interno delle abitazioni delle problematiche ambientali che ipotizziamo non siano rare quindi è probabile che in assenza di una percezione del problema è possibile che siano molte le case dove appunto in questi casi ragazzi anche molto giovani respirano la qualità dell'aria non adeguata che quindi è opportuno in qualche modo controllare meglio siamo sicuri perché abbiamo avuto i primi riscontri che la partecipazione attiva delle sentinelle ovviamente codivati dagli ori insegnanti che hanno accettato e partecipato con grande con grande diciamo interesse al progetto ha fatto crescere la loro consapevolezza riguardo al problema e le possibili soluzioni andremo a vedere con incontri che faremo a partire dai prossimi giorni quanto io gli stessi le sentinelle come dire sono in grado potranno confermare questa loro consapevolezza e quindi cosa hanno imparato l'altra cosa importante è che il metodo del suo complesso sia per quanto riguarda gli strumenti utilizzati sia per gli strumenti diciamo di conoscenza e didattici messi a disposizione è esportabile a un certo costo non esagerato a un certo costo è esportabile in altre realtà cittadine abbiamo avuto richieste per esempio da Livorno che ha un problema analogo a quello di Ceno per quanto riguarda il porto di poter come dire riprodurre questo metodo abbiamo avuto un contatto tanto per accennare dagli attivisti di Greenpeace che sono molto interessati a questo metodo loro sono interessati alle emissioni delle attività degli allevamenti ma le tecniche analitiche sia per quanto riguarda le polveri sottili per quanto riguarda appunto in questo caso l'ammoniaca il radiello hanno un sensore apposto diciamo una cartuccia apposta per misurare anche appunto l'ammoniaca per poterlo fare pensiamo anche che se di appoggiarci diciamo così state di fare probabilmente un'acquisizione di fondi per poter comprare diciamo delle nuove cartucce per poter rifare per esempio quest'estate o comunque prima che le scuole chiudano un'ulteriore indagine mirata proprio al problema dell'inquinamento portuale in questo caso abbiamo già individuato una serie di scuole o comunque di edifici pubblici che potrebbero ospitare i nostri campionatori passivi per andare appunto dalla zona portuale fin su a Granalolo e magari anche più oltre per poter monitorare almeno per due tre quattro settimane settimana dopo settimana la concentrazione di ossido azoto perché appunto per queste località appunto quelle collinari e con riferimento all'attività del porto è molto importante il fattore stagionale in particolare noi sappiamo che d'estate molto più frequente sono molto più frequenti eventi che provengono da mare e quindi che se passano sopra il porto portano trascinano verso l'abitato in particolare se le zone collinari con vista porto come come lo diciamo i fumi di molte navi in particolare di vecchi traghetti che visibilmente emettono quantità importanti proprio visibili di polveri sottili immaginiamo PM10 composta prevalentemente da residui carboniosi che sono anche che oltre essere appunto sostanze come dire problematiche che per sé le polveri hanno anche un carico di inquinanti per esempio i dopamuri preciclici aromatici che sono senz'altro problematiche pericolose quindi ho finito vi ringrazio per l'attenzione appunto se avete poi domande o commenti alle cose che vi ho raccontato potete scrivere questo mio indirizzo e quello che vedete sotto invece è il sito del mio link il link per il mio sito dove troverete queste altre interessanti informazioni sull'attività che svolgo vi ringrazio per la vostra attenzione e alla prossima intanto vi accenno che appunto il prossimo incontro sarà dedicato all'interno delle conversazioni della transizione ecologica riguarderà tutto il tema sarà ai primi di marzo avremo ospite Enzo Favoino e con lui avremo una lunga conversazione su cosa sta come sta gestendo a livello europeo la gestione di quelli che io chiamo materiali post consumo per affrontare poi altri argomenti su questo genere di grande importanza che per la nostra città grazie ancora primi di aprile va bene grazie